Certo solo per il Signore 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 Stiamo davanti al nostro Signore Celebrando insieme la quarta Domenica di Pasqua Domenica di Buon Pastore Buon Pastore con Lui che ci guida Perché è unico nostro Pastore E nostro Signore Gesù Cristo E noi siamo Il suo greggio Greggio di coloro che conoscono La sua voce Conoscono il richiamo della parola Sua che ci porta Verso la vita eterna Seguendo la sua voce Ci troviamo qui Per pregare insieme E essere testimoni Di nuova creatura Che inizierà a far parte Di questo greggio Di popolo di Dio Attraverso il sacramento Del Battesimo Preghiamo per Lui Per tutta la sua famiglia E affidiamo anche Alla misericordia di Dio Il nostro fratello Del gruppo Pasquale Che nome date A vostro bambino? Gesù Cari genitori Chiedendo il Battesimo Per il vostro figlio Voi vi impegnate E adocarlo nella fede Perché nell'osservanza Dei comandamenti Impari ad amare Dio E il prossimo Come Cristo ci ha insegnato Siete consapevoli Di questa responsabilità? Sì E voi Padrino e Maria Siete disposti Ad aiutare i genitori In questo compito Così importante? Sì Francesco Con grande gioia La nostra comunità Che in sera ti accoglie In suo nome Io ti segno Per il segno Dell'approccio E dopo di me Anche voi Genitori E padrini Farete sul vostro bambino Il segno di Cristo Salvatore Grazie a tutti Dio Il potente Misericordioso Guidaci al possesso Della gioia eterna Perché l'umile grege Dei puoi fedeli Giunta con sicurezza Quanto a te Dove lo apprezzato Il Cristo Suo pastore E il Dio 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 E il Santo Per tutti i secoli Dei secoli Amén Dall'agri 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie vecore e le mie vecore conoscono me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono il buon pastore, conosco le mie vecore e le mie vecore conoscono me. Così come il padre conosce me e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che mi promettono da questo recinto. Anche quello che io devo guidare, anche quelle io devo guidare. questo è il buon pastore. Domenico, domenica nel quale noi svegliamo per le vocazioni. va bene, ma che cosa è la vocazione? Capite questa parola? chiediamo. Chiediamo qualcuno più grande. Che cosa è la vocazione? Cioè un'azione. Cioè un'azione. Cioè un'azione di voce. Cioè qualcuno che ci chiama. Cioè un'azione di voce. Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e risurrezione. Rinasca nuova vita e sia incorporato alla sua santa chiesa. Noi ti preghiamo. Assolutamente. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepola e testimone del tuo Vangelo. Noi ti preghiamo. Assolutamente. Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga la vita eterna. Noi ti preghiamo. Assolutamente. Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede. Noi ti preghiamo. Assolutamente. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia. Noi ti preghiamo. Assolutamente. Perché tu radivi in noi la grazia del battesimo. Noi ti preghiamo. Assolutamente. 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 di Dio. Dio è il potente d'Eterno per mandarci in fondo il suo figlio per distruggere il potere di San allo spirito del male e trasferire l'uomo dalle tenebre del cuore e nelle luci infinita. Umilmente preghiamo libera questo bambino dal peccato originale e consacra lo tempo e la tua gloria. Dimora dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amo. Chiungo con olio segno di salvezza i fortifici con la sua potenza Cristo Salvatore che viveremo in secoli e secoli. Amo. Padre di Carissimi preghiamo Dio Padre Olimpotente perché questo bambino rinasca la nuova vita dall'acqua dello Spirito Santo. Benedetto sei tu Dio Padre Olimpotente hai creato l'acqua che purifica la vita. Diciamo insieme Gloria a te o Signore. Gloria a te o Signore. Benedetto sei tu Dio unico figlio Gesù Cristo hai versato il tuo fianco d'acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la chiesa. Gloria a te o Signore. Benedetto sei tu Dio Spirito Santo hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo interpartizzati. Gloria a te o Signore. Per il mistero di questa acqua santificata dal tuo Spirito fa rinascere la vita nuova a questo bambino educhiamo il battesimo nella fede della Chiesa perché abbiamo la vita eterna per Cristo nostro Signore. Amo. Cari Gittoi Padrino e Madrino il bambino che voi presentate sta per il cielo il battesimo nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua dello Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede perché la vita divina che riceve il dono sia preservato dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impero in amore delle promesse del vostro battesimo rinunciate al peccato e fate la vostra produzione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale il vostro figlio viene battesato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue esituzioni credete in Dio Padre impotente e creatore del cielo e della terra credete in Gesù Cristo suo unico figlio nostro Signore che nacque da Maria Vergine morì e fu sepporto e risuscitato dai morti e dalla destra del Padre credete nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei santi la revisione dei peccati la risurrezione della carne e la vita eterna credete questa è la nostra fede questa è la fede questa è la fede della Chiesa questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla e noi ci gloriamo il Cristo Gesù nostro Signore il Cristo Gesù nostro Signore amico volete dunque che Francesco riceva il partesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? sì lo vogliamo francesco che io ti battezzo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amico di ogni potente Padre del nostro Signore Gesù Cristo ti ha liberato del peccato ti ha fatto rinascere dell'acqua dello Spirito Santo unedotti al suo popolo è gli stesso che consacra con il risultato di salvezza perché inserito in Cristo il sacerdote del profeta sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna grazie Francesco sei diventato una nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità aiutata dalle parole per esempio i tuoi cari portala senza macchia per la vita e per la vita Amo ricevete la luce di Cristo a voi genitori e a voi padrino e madrina ne ha dato questo segno pasquale fiamma che serve dovete alimentare avete cura che il vostro bambino illuminato da Cristo ti va sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vado incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno del cielo il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare di tutti conceda di ascoltare presso la sua parola e di professare la tua fede all'ode e all'oglia di Dio Padre Amo ecco Francesco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.